Su questa manovra di bilancio mi dà un voto? Direi tre. E' un sorriso amaro quello di Francesca Redavid, componente della Segreteria Nazionale della CGL, intervenuta a Pescara alla giornata conclusiva del XIX Congresso per il rinnovo del provinciale. La leader del sindacato è andata giù duro sulla manovra di bilancio del governo Meloni. Il testo approderà la Camera domani con il voto di fiducia atteso per venerdì. Perché dice? Per il lavoro non c'è niente. Quello che c'è l'abbiamo conquistato con lo sciopero della volta precedente, il 2% di curio fiscale, il risultato dello sciopero del 16 dicembre del 2021 sulla finanziaria. Il resto delle risorse al lavoro non va assolutamente nulla, è una manovra regressiva che indica che la precarietà del lavoro continua a essere il centro delle politiche sul lavoro. Altre priorità da affrontare, il reddito di cittadinanza che verrà rivisitato nel 2024 è l'inflazione che erode pesantemente i salari. Come difenderli? Lo Stato e il reddito di cittadinanza è oggettivamente una misura contro la povertà. Per sostenere, o non contro, per affrontare la povertà come c'è nel resto d'Europa e del mondo. Mancano politiche attive del lavoro che accompagnino al lavoro. Anche però su quello è inutile pensare che lo risolvi mettendo le persone in formazione. Metti le persone in formazione se dopo hai dei posti di lavoro dove mandarle. Se questi posti di lavoro non ci sono, il problema esiste. L'assenza di politiche industriali e di politiche sul territorio fa mancare l'anello più importante di questa catena. Il governo avrebbe dovuto fare una riforma fiscale che aiutasse a sostenere i salari. Questo non avviene, appunto quello che c'era, quello che era già stato ottenuto, mentre si introduce un'ulteriore alicota con la flat tax al 15%, ma non per il lavoro autonomo povero, ma per i liberi professionisti. Forse non erano questi i soggetti più a rischio. Noi pensavamo che intanto andava diminuito il curio fiscale di 5 punti perché questo significava una mensilità in più e agire sul drenaggio fiscale che è una misura che c'era quando c'era l'inflazione rettornata. L'ultima sulle pensioni, c'è la proposta da parte del governo, quota 103, no? Vi piace? Che cos'è che non vi piace? 103 significa avere insieme 62 anni e 41. Sono poche migliaia. Credo che queste poche migliaia siano uomini del nord. Non credo che né le donne nel sud ci siano queste condizioni, se non dei casi assolutamente. È una cosa ridicola, si è passata da quota 100, 101, 102, 103 e si continuano ad offrire dei grandi tavoli che poi non si aprono mai. Chiusura con il segretario provinciale Luca Undifero che auspica per i prossimi 4 anni che venga recuperato un valore importante, tornare ad essere il sindacato di strada. Significa la vicinanza alle persone, significa non stare in ufficio ad aspettare che vengano le persone ma mettere l'ufficio accanto alle persone, nelle case, nelle piazze, nelle strade perché credo che oggi in questo paese, non solo per quanto riguarda il sindacato ma per il mondo delle rappresentanze in generale, è necessario che le persone vadano accompagnate e vadano seguite da vicino perché i bisogni delle persone non sempre vengono rappresentate dalla politica in particolare e quindi c'è sempre un distacco maggiore tra quello che è il rappresentato e quello che è il rappresentante.